Guardi tutti dal 41 bis! Senza mediazione di sorta, affinché non passi lo strumento del 41 bis con... Coraggio! Dopo più, quando ci avviciniamo ai quattro mesi di carcere, ricordiamo che Mazzarella sta zitto! No, parla dei diritti umani in altri paesi, parla sempre della Costituzione, su Alfredo neanche una parola! ...e state a lui, Anna e Quagli, per rompere l'isolamento che lo Stato vorrebbe imporre. Ricordiamo come si sono successe le cose, era cento giorni circa che noi stavamo lottando, non era successo niente di strano!